Ha allenato in tutte le serie, tranne che nel femminile, e ha vinto dappertutto. Marco Caloari. Grazie Gianni. Buongiorno. La penombra non è conseguenziale all'orario, come qualche collega mi ha detto, dice mi sono alzato stamattina presto per venirti a sentire, ma per cercare di darvi una mano nella visione di quelle che sono le slide che avrei dovuto proiettare con PowerPoint e quindi anche avere una resa diversa rispetto a quella che avremo che è una semplice lettura di diapositive, ma comunque la sostanza ce l'avremo lo stesso. Perché la scritta che ho fatto sotto la logica delle scelte? Perché credo che in ogni cosa che noi come allenatori proponiamo ci debba essere una logica che prima noi chiediamo a noi stessi, e cioè del perché andiamo a proporre qualcosa ai nostri giocatori. Questo a tutti i livelli. Quindi qui non parliamo di una chiacchierata tecnica, che ovviamente sarò io a essere un po' accentratore di questa chiacchierata, ma spero che ci siano anche delle domande che mi aiuteranno per arricchirmi e completarmi in quello di cui sto parlando oggi. Ci deve essere una coerenza su tutto quello che noi andremo ad allenare. Quindi è un concetto riguardante ovviamente la zona, parleremo di categorie che non saranno quelle delle categorie più piccole, però anche in tutte le altre cose che noi faremo dovremo avere un filo logico nella proposta che noi facciamo. La logica delle scelte è quella che se noi facciamo una zona e alla prima azione della difesa schierata zona prendiamo un canestro da tre punti, se noi chiamiamo alla nostra squadra di tornare a uomo credo che la nostra credibilità come allenatori vada un po' a farsi friggere. Nel senso che se noi abbiamo proposto nel contesto della partita, che sia all'inizio, che sia durante, che sia alla fine, che sia al primo, al quarto quarto o al supplementare o quello che è, ci debba essere poi una coerenza nella proposta che abbiamo fatto. Altrimenti quello che può essere il rispetto che hanno i nostri giocatori nei nostri confronti e cioè nel credere, nelle proposte che noi facciamo, va un po' a farsi friggere. Perché noi facciamo la zona? Quindi questa è la prima cosa che noi dovremmo chiederci. Vediamo se riesco. Scusate, io sono un Mac e... Ok. Allora, perché difendiamo a zona? Vi ho fatto un po' un elenco in modo che possiate... che possiate adesso meglio... Perché difendiamo a zona? Ci dobbiamo fare un po' di domande, come in tutto quello che noi proponiamo. Cioè, quando noi siamo in campo... Vi faccio un esempio. Se alleno un under 19, un under 17 e la mia squadra ha cinque giochi di attacco per l'uomo e tre giochi per la zona, io onestamente, come osservatore esterno, che vedo che sono seduto lì al posto vostro e vedo una partita dove vedo cinque chiamate, sei chiamate per l'uomo e due chiamate per la zona, a me qualche dubbio mi viene. Cioè, mi viene qualche dubbio nel capire se la proposta che il collega sta facendo in campo su quei ragazzi per quell'età, per quella categoria, possa essere confacente all'età che stiamo allenando. e mi chiedo anche, quanto tempo io sto perdendo per fare quei cinque, sei schemi, otto con quelli della zona e quanto invece avrei potuto guadagnare del tempo per poter arricchire quello che è un bagaglio tecnico che si porterà dietro tutta la vita? Perché quel ragazzino, uno di quei ragazzini dell'Under-19 e dell'Under-17, quando cambierà allenatore, cioè quando non avrà più il Calvani della situazione che gli fa fare nove schemi d'attacco tra uomo e zona e troverà un altro collega, perché sarà più grande e magari verrà allenato un altro collega, l'altro collega gli propinerà altri schemi. Ma se io quando era giovane, quando era Under-17, Under-19, gli ho creato un bagaglio tecnico per stare in campo, per capire come dialogare a pallacanestro con i suoi compagni, qualsiasi compagno sia, qualsiasi allenatore sia, io ho dato una bella mano a quel giocatore, a quel ragazzo che probabilmente potrebbe diventare un buon giocatore. Ma se io gli ho fatto perdere del tempo, perché ho guardato solo ed esclusivamente a quello che era un mio interesse personale, e cioè fare cinque schemi e sette schemi, perché è molto più facile dire passa la palla e vai, taglio ucla, oppure palleggio laterale e zipper, blocco a scendere e ribaltamento dal lato opposto, molto più semplice che non dirgli a un ragazzo, attenzione, che se Giovanni da qui penetra sul fondo, tu che sei esterno sul lato debole devi far questo, tu che sei, che transitavi, non che sei un pivot, che transitavi nella zona di post-basso, se sei sul lato debole fai questo movimento, vai a occupare questo spazio sul campo, se sei sul lato forte vai a occupare questo spazio, se la penetrazione è sul fondo ti muovi in questo modo, se la penetrazione è sul centro ti muovi in questo modo. Vi chiedo, perché io non l'ho fatto a mio tempo quando ero giovane, cioè ero anche io preso nel loop di dover fare gli schemi, perché pensavo che quello fosse la chiave di volta per diventare un bravo allenatore, ma avevo perso l'essenza, e l'essenza era quella di dare delle informazioni, un bagaglio culturale e tecnico ai miei giocatori, ai miei giovani, per poterli poi mettere più avanti, quando diventavano senior e non più giovanili, nelle condizioni di poter essere allenati da qualsiasi allenatore e di poter giocare con qualsiasi compagno. E questa è una nostra responsabilità, grossa. Allora, se noi non abbiamo chiarezza con noi stessi su quello che vogliamo fare, quello che vogliamo proporre in campo, lasciamo perdere, cambiamo mestiere. Non siamo obbligati a fare gli allenatori. Nessuno ci ha puntato la pistola alla tempia per fare allenatore. Nessuno mi ha detto di andare a Napoli. Quindi ognuno di noi fa delle scelte, se ne prende la responsabilità. E io potrei farvi una lunga relazione sulle mie responsabilità di quest'anno nell'andare a Napoli. Aperta e chiusa parentesi. Allora dicevamo, perché difendere la zona? Vi do delle idee, non è che questa è la tavola delle leggi, è un'idea e anzi mi farebbe piacere che voi me la arricchiste con altre cose che voi pensate. Quando l'attacco è efficace con il tiro ai tre punti, tante volte, sembra un controsenso, vediamo una squadra che ci sta facendo canestro a tre punti e non riusciamo ad uscirne fuori. E la difesa è anche una buona difesa, la difesa è anche presente nel momento che il tiratore riceve la palla per scoccare il tiro a tre punti, che sia su uno scarico, che sia su un'uscita da un blocco. Ma non riusciamo ad arrivarne a capo. Improvvisamente la genialata dell'allenatore è quella di chiamare la zona. Perché? Perché modifica totalmente quello che è la visione di approccio degli attaccanti a quello che stanno vedendo dalla difesa. Cioè gli cambio totalmente visione, li costringo a pensare a un qualcosa di diverso da quello che sono allenati fino a quel momento, istruiti fino a quel momento nel riuscire a trovare nella uomo canestri difficili anche con difese presenti, anche con difese pressanti. Interrompere un momento positivo e prolifico degli avversari modificandogli la dettura difensiva. È il concatenamento di quello che vi ho detto, cioè gli do una visione diversa rispetto a quello che hanno visto fino all'attimo precedente. costringe ad appensare agli avversari ad un qualcosa di diverso rispetto al momento precedente e va a concatenarsi con le altre cose, quando l'attacco sta avendo il sovravvento con le penetrazioni a canestro. Stiamo subendo troppi terzi tempi, stiamo subendo troppi attacchi al ferro, dove prendiamo degli scarichi interni se non vanno a finire in terzo tempo, stiamo subendo troppe penetrazioni perché la capacità degli avversari è molto più elevata rispetto alla mia capacità di riuscire a contenere l'uno contro uno, mi costringono a collassare l'area, stanno trovando dei canestri facili sul perimetro sugli scarichi. Cambio e mi metto a zona, limito quelle iniziative, forse riesco a contenere meglio l'uno contro uno, forse una presenza ingombrante di un lungo dentro l'area e poi vedremo nelle competenze quali sarà, mi permette di poter diminuire questo tipo di atteggiamento da parte dell'attacco, forse limito quello che sono gli scarichi a livello perimetrale. Quando vogliamo o bloccare o limitare il gioco interno, stiamo subendo su iniziative a spalle a canestro di qualche giocatore che possa essere un giocatore di ruolo, ma che potrebbe essere anche un giocatore un esterno che ha struttura fisica per poter andare a giocare a spalle a canestro rispetto a quello che sono i miei difensori, modifico e passo a zona. Quando abbiamo un problema di falli per uno o più giocatori, attenzione che questa potrebbe essere equivoca, perché se dico quando abbiamo problemi di falli, la traduzione potrebbe essere quando siamo a zona non difendiamo, cioè siamo lì, facciamo la classica zona bulgara, siamo lì, aspettiamo che gli altri sbaglino e noi non prendiamo nessun tipo di iniziative, cioè aspettiamo solamente che ci sia l'errore degli avversari. No, la difesa a zona è una difesa dispendiosa dal punto di vista energetico e è una difesa che comunque comporta in situazioni, forse percentualmente un pochino più basse, quello che sono i contatti. però può essere un qualcosa dove li andiamo un po' a cautelare, un po' a limitare. oltre che il perché difendere a zona, dovremmo chiederci anche perché preferire la difesa a zona 2-3 rispetto ad altre zone. Negli anni, che ormai sono tanti, che sto sul campo, mi sono chiesto quale potesse essere la migliore zona. Secondo me non c'è la migliore zona, cioè questa è una proposta, è un'idea che vi do, ma non è che la 2-3 è la migliore zona. Negli ultimi anni, e cioè da quando c'è stata l'introduzione del, meglio, scusate, l'introduzione del tiro da tre punti e un accrescimento esponenziale del tiro da tre punti da parte delle squadre, tanto che oggi, a differenza di quelli con meno capelli o con i capelli bianchi come me, se lo ricorderanno, che insomma avevamo dei giocatori interni, 4-5 che poteva dirsi alle pivot e pivot dove c'era poca predisposizione del tiro da tre punti. Oggi invece, mediamente, una squadra che non ha un 4 che tiri da tre punti fa un po' più fatica per presentarsi in attacco e a volte abbiamo anche dei 5 che mettono in difficoltà, che mettono in crisi. Ieri avete visto, chi ha visto la partita con Diferentino, Bilica che tira da tre punti e che comunque non era casuale il canestro da tre punti che ha fatto ieri, ma è un qualcosa che ha presentato in più occasioni durante la stagione per Ferentino, ovviamente dà delle risorse alla squadra non indifferenti e costringe il difensore di ruolo a rimanere dentro e quindi a poter subire un canestro da tre punti o a portarlo fuori dall'area e facilitare tutto il resto che possono fare gli altri 4 perimetrali. Perché ho detto tutto questo? Perché l'idea negli ultimi anni è quello che la 3-2 potesse coprire meglio quello che è il perimetro, quello che è l'arco dei tre punti. Cioè i tre difensori perimetrali e i due della seconda linea potessero andare a coprire meglio quello che è l'incisività avversaria nel tiro da tre punti. Io mi faccio una domanda. Perché difendo a zona? Qual è il mio obiettivo difendere a zona? Sicuramente io voglio proteggere l'area. Se io voglio essere aggressivo sul perimetro se voglio essere aggressivo sulla circolazione di palla tagliare le linee di passaggio probabilmente sto sulla uomo. Se voglio invece proteggere l'area e favorire la circolazione perimetrale e meno quella interna che sia con i passaggi che sia con le penetrazioni che sia con azioni di uno contro uno è molto probabile che vada a zona. Quindi qual è il concetto? Che io voglio proteggere la mia area. Se io voglio proteggere la mia area io voglio che ci sia sempre un giocatore che possa essere a protezione del ferro che possa essere a protezione di tutto quello che sono tiri ad altissima percentuale in appoggio al tabellone in appoggio al ferro in schiacciata. Lo voglio limitare lo voglio togliere e allora cerco di mettere il giocatore più strutturato o più atletico che ho nella squadra nella posizione centrale che va a coprirmi quello che poi è l'obiettivo degli avversari. E quindi questo è il motivo per cui la mia scelta è una scelta della zona 2-3. E qui lo dico per avere sempre un giocatore centrale il nostro X5 a protezione dell'area di 3 secondi per tenere sempre il mio giocatore più grosso forse più lento forse ma non è detto in un'area circoscritta ben definita senza lasciarlo uscire dalla porzione di campo che voglio proteggere. Questo può essere per la metà per quale motivo? perché vi dico una cosa ma vi devo dare anche degli elementi perché voi possiate riflettere cioè non è che è legge quello che vi dico io sono delle idee, dei miei pensieri che voi dovete prendervi elaborarli e capire quello che vi dovete prendere e quello che dovete buttare. Quando io vedevo Siena allenata da Ciardi e Recalcati con Chiagic che facevano la 3-2 ma quando andavano dal lato la palla andava sul lato di Chiagic improvvisamente diventava 2-3 è una cosa estremamente interessante che però io all'epoca non ero capace di saperla replicare cioè non mi dava sicurezza a me come allenatore nel proporla perché non avevo gli elementi dialettici con la squadra e tecnici e come posso dire professionale non so come dirvela per poterla provare qui è per proporla quindi ne sono stata alla larga ma è una cosa estremamente interessante per quale motivo? perché va a cozzare con quello che io ho detto poco fa cioè io dico il mio giocatore più grande Chiagic sicuramente lo era poi ce l'ho avuto a Scafati un'annata e abbiamo ovviamente fatto la 2-3 con lui perché gradivo che lui rimanesse dentro l'area e non mi andasse a rischiare di dover uscire con la 3-2 di uscire negli angoli quella proposta che faceva Recalcati a Sena con Chiagic è una proposta estremamente interessante quindi questo per dirvi che quello che vi sto dicendo è un'idea ma ci sono mille proposte da parte dei colleghi di altri colleghi sicuramente molto più bravi e famosi di quello che posso essere io dell'avere delle proposte che possono essere assolutamente valide come quella che fece Recalcati a Sena quando aveva Chiagic quindi ecco quello che io vi dico vorrei che voi lo metabolizzaste come dicevo prima nel prendervi quello che per voi è comodo e buttare quello che voi ritenete non sia assolutamente utile per avere lo stesso giocatore X5 che sarà quasi sempre accoppiato con chi degli avversari deciderà di giocare a spalla a canestro e questo è fuori di dubbio nel senso che se io metto la zona e ritorniamo a Ferentino bilica da marcare spalla a canestro è probabile che ci sarà sempre lì il mio giocatore più strutturato per poterlo difendere ma anche se va a giocare Omar Thomas ma anche se va a giocare Gersetti quindi diciamo che riesco sempre ad avere un accoppiamento vantaggioso contro l'avversario contro il collega che vuole sfruttare quelle sue caratteristiche quelle sue qualità spalle a canestro andiamo avanti per avere il miglior rimbalzista vicino al ferro per quale motivo? perché voi sapete che nella 3-2 la seconda linea difensiva dove va dove è la circolazione della palla porterà sempre fuori uno dei due che stanno sulla seconda linea difensiva che mediamente metteremo l'X4 l'X5 quindi io mi vado a togliere quello che è se decido di fare una difesa diversa dalla 3-2 o meglio se decido di fare una difesa che non sia la 2-3 la 2-1-2 sono costretto a portar fuori a parte la 1-3-1 sono costretto a portar fuori il mio difensore più strutturato o il miglior rimbalzista che immaginiamo che possa essere il miglior rimbalzista fuori dall'area e per me sicuramente non è un vantaggio per avere sempre uno dei due giocatori mediamente più strutturati come X3 X4 a garantire la copertura dell'area quando la palla è sul lato opposto riuscite a immaginare parliamo tra colleghi la palla è su questo lato dall'altro lato abbiamo la seconda linea difensiva l'ultimo difensore probabilmente a perimetro dell'area o dentro l'area sarà X3 X4 se qui scocca un tiro nella percentuale dei rimbalzi che vanno sul lato debole avremo su quel lato lì un giocatore abbastanza strutturato che mi permette di poter prendere un rimbalzo voi capite che nella 3-2 se la palla è di là e io sono X2 la palla è dall'altra parte quindi sull'angolo c'è andato X4 e su 5 sul post basso c'è andato X5 e su 4 voi capite che con la palla dall'altra parte io che sono sulla 3-2 sulla prima linea sono qua se parte un tiro io che sono la guardia per me non è molto vantaggioso avere un giocatore poco strutturato in quella zona del campo perché quando la palla finisce su uno di due lati o va in angolo qualsiasi tipo di difesa difenta una 2-3 la 3-2 che vi dicevo prima di Recalcati a Siena con Chiagic erano bravissimi nel farla diventare una 2-3 per coprire la zona del post alto che è un cuore che è il cuore di tutti gli attacchi contro la difesa zona in questi anni dove ho avuto la possibilità di fare diverse esperienze è stato sempre un momento chiave non solamente nel vedere le mie squadre ma anche nel vedere le altre squadre di quanto fosse difficile per la zona riuscire a mantenere un equilibrio un assetto difensivo quando la palla finiva in post alto soprattutto ma anche in post basso e per post basso soprattutto nella zona non intendo assolutamente questo che taglia le gambe all'attacco della zona ma intendo questo che è una posizione assolutamente vantaggiosa che è una posizione che voi se avrete il piacere di farlo sperimentate nel contropiede nel portare qualsiasi giocatore dal playmaker il primo che arriva nella transizione dal playmaker al 5 portarlo in questa posizione e passargli la palla crea un disagio per la zona per la difesa qualunque essa sia indescrivibile bene diamo avanti competenze allora nelle competenze intanto che io finisco vado avanti nel parlare uno di voi me la fa una cortesia mi porta quella lavagna e me la mette qui di lato grazie competenze le competenze le dividiamo tra i quattro giocatori che sono a ruotare o a muoversi intorno al nostro X5 e li dividiamo in due in due zone una zona che è grazie che è riferita ai giocatori della prima linea difensiva X1 X2 una zona che è riferita alla seconda linea difensiva X3 X4 e anche su questo ci devono essere idee abbastanza chiare su quello che vogliamo vi faccio degli esempi mi venite in quattro e un pallone bravi magari scattando bravi dai quattro qualsiasi non è un problema un altro bianco un altro bianco molto bene allora i rossi si mettono in difesa i bianchi si mettono in attacco ok mettiti lì senza palla siamo a zona voi siete la prima linea difensiva uno che marca la palla è uno che più o meno non lo sai dove va la palla ci sono anch'io in attacco non lo sappiamo dove va la palla ok mettiamo la palla lì molto bene adesso fai una penetrazione sul centro ok quello che noi non vogliamo nelle competenze poi vi sto facendo un esempio in modo che riesco a prendere la vostra attenzione non solamente sulla mia dialettica ma anche sulla visione di un qual piccolo movimento quello che noi non vogliamo meglio quello che io non voglio torna là è quello di faccio io scusami metti là è quello che su questa penetrazione mai vai coinvolgere questo difensore per chiudere ma mille volte accade quello che non vogliamo vai là difesa è quello difendi è quello che su un attacco che prevede un blocco sulla palla su questo pick and roll vai non vogliamo mai attirare questo difensore per non lasciare libero quello anzi anzi gli diciamo torna indietro a questo difensore della prima linea difensiva che non sta marcando la palla gli diciamo come c'è il pick and roll daremo intanto un'istruzione a questo per non far giocare il pick and roll noi allenatori siamo in una partita a scacchi con il nostro collega e il pensiero che dobbiamo avere prima di iniziare la partita è che il nostro collega sia più bravo di noi e che gli altri avversari siano più bravi dei nostri perché se no non siamo stimolati mentalmente nel cercare di fare qualcosa di più per battere il nostro avversario è una partita a scacchi se tu vuoi giocare il pick and roll contro la zona tu mio collega dell'altra squadra significa che tu presumi di avere un vantaggio da quella cosa io non te lo voglio dare quindi se tu vuoi giocare il pick and roll faccio io io non ti faccio giocare il pick and roll ma prevedo che da questo atteggiamento frontale che sia un atteggiamento di contenere su questo lato cioè tu vuoi portare la palla di là io non ti ci mando fai un'altra cosa e questa è la prima cosa vieni l'altra cosa è quella che se lui non riesce a fare quello che io gli ho dato come consegna deve avere un'alternativa deve avere un'alternativa se ha sbagliato per recuperare all'errore recuperare all'errore significa che se lui comunque riesce a giocare lui non si deve schiantare sul blocco ma deve cercare di scivolare sul blocco vai rincorrere e non permettere all'attaccante di poter fare un pull up un tiro da fuori un arresto e tiro quella è la sua competenza ok in questa situazione guardatevi le partite a tutti i livelli spessissimo succede che su questo blocco su questo che comunque va in penetrazione questo viene a chiudere e noi siamo ammazzati siamo morti siamo assolutamente morti ok quindi noi dobbiamo averlo chiaro grazie vi sedete poi vi richiamo noi dobbiamo averlo estremamente chiaro quello che sono le competenze che dobbiamo dare ma prima di andare in palestra ogni tanto vi do delle pillole che non c'entrano niente su quello che è l'argomento tecnico ma che mi premono per quello che è la nostra categoria che merita rispetto che non abbiamo che non abbiamo ma a volte siamo noi a non farcelo dare quando noi andiamo in palestra se noi non ci presentiamo a tutti i livelli con un piano di allenamento siamo dei delinquenti siamo delle persone poco corrette perché nessuno ci obbliga a fare l'allenatore o l'istruttore che sia per cento euro che sia per un milione di euro è una nostra scelta ma l'obbligo morale che abbiamo nei confronti dei nostri giocatori piccoli o grandi che siano è quello di arrivare in palestra sapendo cosa noi gli vogliamo far fare e non fargli perdere tempo è inaccettabile che arriviamo in palestra senza un'idea tecnica è inaccettabile arrivare in palestra tra felati all'ultimo momento con le scarpe che ci vediamo da fuori e con i jeans è vergognoso la professionalità è diversa da essere professionista tutti possiamo essere professionali chi allena il mini basket e chi allena l'Eurolega tutti dipende da noi se io voglio rispetto devo dare prima un segnale al mio interlocutore dirigente o chi che sia proprietario o chi che sia per dire tu stai lavorando con un professionista con una persona professionale mi devi rispettare per questo mettimi nelle condizioni di poter lavorare mi vengono tanti pensieri legati a questa stagione quindi siamo noi siamo noi i primi allora se noi prima di iniziare l'allenamento e ci è venuto in mente quel giorno che il programma di quella giornata è la zona vogliamo proporre la zona ai nostri ragazzi ma noi ci siamo messi a casa al bar dovunque volete voi con un pezzo di carta a dire oggi che esercizi gli faccio fare oggi su cosa lavoriamo e quando quello fa una penetrazione che cosa gli dico poi all'altro mio giocatore che sta sulla prima linea difensiva se noi non facciamo questo noi arriviamo in campo e in tre secondi e mezzo i giocatori a qualsiasi livello ci smascherano capiscono in tre secondi e mezzo che non abbiamo padronanza della materia quando si vanno a fare la doccia nello spogliatoio qua ci sono grandi giocatori ex grandi giocatori Nicolai Fantozzi e forse me ne dimentico altri che non ho visto non ti avevo visto eh non si nota esatto non si nota e questi quando si andavano a fare la doccia ha finito un allenamento ma sai quante ne dicevano sull'allenatore che mediamente la colpa era sempre dell'allenatore qualsiasi cosa si facesse sia sull'allenamento sia sulla partita vinto o persa che sia perché perché se io cambiavo Nicolai Nicolai era incazzato perché non era negli ultimi minuti a giocare la partita perché magari c'era l'americano perché se levavo Fantozzi e mettevo quello più giovane Fantozzi era incazzato perché voleva stare in campo a giocarsi gli ultimi minuti per vincere la partita anche se si vinceva ok quindi ti facevano un fondoschiena indescrivibile immaginatevi durante l'allenamento alla fine di un allenamento dove non è la partita che il giocatore mentalmente si diverte anche l'allenamento giocatore diciamo che quello come loro che sono arrivati all'altissimo livello capivano dell'importanza dell'allenamento capivano quanto era decisivo applicarsi durante la settimana per poi arrivare all'appuntamento domenicale ad avere una performance di assoluto livello ma quando era finito l'allenamento nello spogliatoio mentre si cambiano e si fanno la doccia ne dicono di tutto e di più e in tre secondi e mezzo l'allenatore viene smascherato se non ha competenza se non ha personalità se non ha conoscenza della materia e coi ragazzi anche quelli giovani in tre secondi e mezzo ci capiscono perché sono come i figli come i bambini in tre secondi e mezzo capiscono dove possono arrivare per ottenere quello che vogliono e capiscono se noi siamo all'altezza di dargli delle proposte coerenti o meno competenze X1 X2 responsabilità per tutto quello che accade dall'estensione del tiro libero verso la linea di metà campo fino alla linea dei tre punti dico delle cose abbastanza decise se dico fino alla linea dei tre punti e qui ritorniamo sulla coerenza se decido di fare zona e Braulì tira da qui e non è che io difendo di merda perché Diana attacca bene è che Braulì è un grande campione se Braulì io da qui lo lascio tirare io mi alzo e fa canestro io mi alzo la panchina e applaudo la mia squadra perché se no non ho coerenza e se no non sono credibile con i miei giocatori se Braulì la seconda volta sempre da qui o da qui cambia poco fa canestro magari faccio un time out o magari alla prima palla morta dico ok andiamo ancora a zona facciamo un passo oltre la linea dei tre punti per marcare Braulì vediamo se fa ancora un passo indietro perché bravi la prima volta ma la seconda volta non posso continuare di bravi anche perché in tribuna c'è il mio presidente il manager in panchino in tribuna e dicono questo è matto questo subisce canestro a tre punti due volte risegue e dice bravi alla squadra c'è qualcosa che non torna quindi bisogna che noi diamo dei messaggi prima di tutto alla squadra presidente e manager c'è tempo per dargli delle spiegazioni ma soprattutto ai nostri giocatori dargli delle indicazioni estremamente chiare su quello che noi vogliamo fare è morto il computer non è morto dovranno avere un atteggiamento del corpo a indirizzare sul lato sull'altro e non frontale a muro i soliti quattro andiamo palla su tre due uno mezzo dai ok allora uno lì con la palla attacco due qui in difesa uno lì perfetto allora voi due vai a metà campo molto bene voi due prima che questo arrivi in attacco in zona di pericolo dovete decidere chi è che marca la palla e chi rimane più o meno al tiro libero molto bene questa deve essere una cosa chiara sulla prima linea difensiva perché perché poi il passo successivo è che gli diciamo a questo non sta in posizione frontale ma dai un lato al palleggiatore bravo bravissimo avvicina magari ce lo porti anche molto bene che cosa sta facendo lui sta dando delle chiavi di lettura e una comunicazione agli altri tre compagni non al cinque il cinque avrà delle competenze particolari ma agli altri tre questo sa che il passaggio più facile che l'attacco potrà vedere è su questa guardia quindi deve essere in una distanza torna indietro che io a cinquantadue anni e con la panza devo stare qui perché sul passaggio se non arrivo quindi questo io l'ho fatta scherzando sui miei cinquantadue la mia panza ma per dire anche che dovete farlo in relazione alle capacità atletiche e tecniche dei vostri giocatori ma lui che è un giocatore molto atletico molto giovane molto rapido la palla quando va da lì a lì lui può stare anche un metro più dentro va bene quindi dipende da questa cosa qua quindi lui dà un primo messaggio al compagno della prima linea dà un secondo messaggio ai compagni della seconda linea dove lui è nettamente svantaggiato se l'attaccante Marco no scusa un altro in attacco bianchi bianco tre due uno mezzo un quarto vai bravo ok quel difensore è nettamente svantaggiato se l'attaccante dovesse fare il passaggio a questo giocatore nettamente svantaggiato torna lì quindi questo difensore della seconda linea difensiva deve essere in una distanza che gli permetta che quando la palla arriva di poter contestare disturbare questo tiro ritardare questa iniziativa dare il tempo al compagno di arrivare e marcarlo e a me di poter ritornare nella mia zona di competenza va bene palla lì sta dando un messaggio estremamente chiaro a questo giocatore dove nella potenzialità di un giocatore d'angolo passa la palla devo essere a una distanza che mi permetta che torna la palla lì me la fai rotolare a terra rotolarla a terra che mentre la palla stia arrivando mi dia il tempo di assumere uno nuovo spazio sul campo per poi all'eventuale passaggio arrivare coprire contestare l'iniziativa del giocatore d'angolo quindi capite che questo giocatore diventa fondamentale quindi riavvolgiamo il nastro torna indietro palla a metà campo siamo dentro ok sta arrivando l'attacco l'attacco arriva i due difensori uno dei due prende la palla l'altro copre il tiro libero e dà un messaggio chiaro a tutti quanti magari non fa proprio un invito col tappeto rosso ok bravo molto bene va bene ok ma state qua vai attesamento del corpo su un lato ok responsabile anche di non concedere o limitare l'ingresso della palla nella zona di postalto quando la palla è fuori dalla posizione centrale che significa significa che se la palla è qua centrale corsia centrale a questo giocatore faccio fatica a dirgli oh tu mi devi marcare il postalto perché il postalto potrebbe essere disturbare l'ingresso della palla sul postalto il postalto potrebbe essere qua se la sua competenza è quella di difendere il perimetro e scoraggiare delle facili iniziative e tre tre punti da quel lato se lo porto su questo lato è difficile che arrivi quindi diciamo che lui comunque sarà con una mano se è in zona per disturbare questo potenziale passaggio va bene basta una mano è sufficiente ma molto più importante diventa quando la palla va sul lato qualsiasi essa sia che questo gioco ad elastico tra chi marca la palla e chi la va a marcare deve esserci continuamente nel coprire l'area nel coprire quello che è il cuore della difesa dell'attacco e quindi quello che può essere un problema per noi difensivamente va bene questo ci deve essere sempre ok per quanto riguarda tre e quattro x tre e quattro quindi seconda linea difensiva porzione di campo che va da sotto l'estensione del tiro libero fino verso la linea di fondo hanno i compiti di aiuto e recupero sul ribaltamento in ala e li vedremo quando la palla è fuori dalla zona di angolo attenzione perché se la palla va in angolo mettiti sulla seconda linea difensiva vieni sulla seconda linea difensiva Alessio no l'altro si chiama Daniel Egidio scusa vieni bravo fammi la cortesia mettiti al perimetro dell'area in linea tra la palla e il canestro ok va bene va bene le competenze le competenze per l'aiuto e recupero ci sono se la palla è lì se la palla è lì vai in ala le competenze sono che su questa circolazione di palla tu mi fai aiuto e recupero ok e sei pronto per marcare quell'uomo in angolo sei sulla seconda linea giusto? ok ma se la palla è in angolo se la palla è in angolo altri due rossi in difesa dai di sprint su ritorna sulla prima linea bravo ok no no stai in angolo stai in angolo ok mettiti in ala mettiti in ala in ala prolungamento del personale ok aiuto e recupero della seconda linea difensiva parliamo di X3 X4 se c'è questo passaggio non andrà mai quello della seconda linea difensiva perché quello della seconda linea difensiva quando vedremo nelle altre competenze un attaccante un esterno vai angolo palla lui in angolo quando la palla in angolo la competenza di questo o quello che dico io quello che penso io la competenza di questo giocatore è quello di riempire l'area e scoraggiare tutto quello che possa essere dei tagli a canestro dei rimbalzi su una sua iniziativa delle penetrazioni vai e degli scarichi dentro l'area e quindi io non posso questo coinvolgerlo su un aiuto e recupero in ala ok quindi questo deve essere ben chiaro la seconda linea fa aiuto e recupero solamente quando c'è una situazione della palla in qualsiasi posto tranne che in posto d'angolo vi potete sedere qua state qua non ve ne andate sono responsabili del tagliafuori sul lato debole per i giocatori che provengono dalla loro zona di competenza un po' ve l'ho detto sul ragazzo che era lì dove ero io a difendere sul lato debole lui ha competenza sul tagliafuori su quelli che arrivano dall'angolo dall'ala ma anche dal post alto dove la prima linea lo accompagnerà presidio e riempiono l'area quando la palla è sul lato opposto e questo l'abbiamo detto adesso andiamo su 5 5 ha competenze che sono totalmente diverse da quello che è tutti gli altri quattro giocatori Daniel mi rimani in difesa eh Egidio scusami hai ragione Egidio scusami mi rimani in difesa gli altri quattro rossi fuori ok dammi la palla allora il compito di Egidio è quello di essere sempre in linea tra la palla e il canestro allora Egidio io adesso muoviamo la palla noi piano tu ti metti sempre in linea tra la palla e il canestro ci sei? vai ok fermo là fermo là in linea tra la palla e il canestro stando sul perimetro dell'area dei 3 secondi scusami non avevo completato la cosa palla ok quindi Egidio sei in linea tra la palla e il canestro più o meno al perimetro dell'area di 3 secondi frontale frontale così frontale bravissimo ok quindi se la palla va là molto bene bravo se la palla va in angolo bravissimo ritorna la palla su sì torniamo la palla qua sì molto bene in linea bravo la palla va di là esatto bravissimo ottimo lavoro molto bene palla la competenza del 5 è anche quella di chiudere tutte le iniziative di penetrazione è sempre in linea sulla perpendicolare scusate la responsabilità di chiudere tutte le penetrazioni al canestro sempre in linea sulla perpendicolare tra palla e canestro marca qualsiasi giocatore che transita o riceve palla nel perimetro dell'area ed è in linea con la palla nella zona di postalto può uscire un passo fuori dalla linea del tiro libero scusate per marcare un giocatore che ha ricevuto in quella zona non va mai virgolettato fuori dall'area di tre secondi perché ci sono poi mille contesti dove all'interno della partita soprattutto se parliamo di categorie seniores e quindi facciamo scouting probabilmente sappiamo che in un certo momento della partita se arrivano a fine azione a fine 24 secondi potrebbe succedere anche che può essere vantaggioso andarla a tirare fuori dall'area va bene ok fermatevi qua penetrazioni x1 2 3 4 vengono abituati abituati ad accompagnare accompagno lo porto gli vado insieme con chi sta prendendo iniziativa di uno contro uno una penetrazione al canestro per consegnarla al nostro x5 riposizionandosi in che modo in due modi fondamentalmente aprendosi immediatamente in controllo di giocatori perimetrali e lo vedremo pronti a ricevere passaggi di scarico schiacciandosi in controllo di giocatori interni pronti a ricevere passaggio di scarico che cosa significa gli altri rossi in difesa ok ok allora chi è che marca la palla come abbiamo detto prima molto bene benissimo adesso io faccio una penetrazione a canestro il tuo compito è quello di accompagnarmi fino a che Egidio finché io non entro in competenza di Egidio la competenza di Egidio è più o meno da tutto quello che è il perimetro dell'aria quindi qui sarà più o meno al tiro libero ci sei nel momento che Egidio mi prende tu ti devi allargare per andare in una posizione che ti permetta di marcare il primo giocatore libero sul tuo lato ci sei abbastanza semplice quindi non è che devi sapere dov'è un giocatore libero quindi andiamo io vado in penetrazione tu mi accompagni Egidio mi prende molto bene dov'è che vai? vai a una distanza che ti permette che se io passo la palla a lui tu arrivi per marcargli per scoraggiare il tiro torna indietro quindi devi capire te qual è la distanza forse prima era un po' troppo poi anche sta un pochettino più dentro va bene? perché tanto da lì se io faccio un passaggio diretto che è veloce tu lo intercetti giusto? se io faccio un passaggio a scavalcare è un po' più lento quindi c'hai quel mezzo secondo un secondo in più per poter arrivare anche se sei più dentro va bene? non ci dimentichiamo che siamo a zona giusto? ok vada qua adesso la palla va là molto bene lui prende questa posizione di dare un indirizzo è solamente all'inizio qui per capirci tu sei in difesa normale come se difendersi a uomo prendi un'iniziativa di penetrazione dove vuoi dove vuoi piano eh bravo 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 ok adesso Egidio chiuderà la penetrazione tu sei Giorgio Giorgio quando quello parte torna indietro tu devi essere come un computer nell'elaborare chi è il giocatore pericoloso libero sul perimetro che tu dovrai andare a prendere proviamo vai penetra stop ok al tuo compagno lì che gli facciamo fare? io direi che torna indietro torna indietro torna indietro facciamo questa scelta che fai te vai vai in angolo vai in angolo stop passami la palla chi mi marca? chi lo marca? passa la palla in angolo stop chi lo marca lui? nessuno giusto? torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro torniamo indietro ok allora lui riprende l'iniziativa forse lì in angolo c'è Daniel che lo può Daniel si amazona Daniel si amazona bravo ok stop lo prende Daniel e tu mentre quello ti sta battendo lo stai accompagnando sei pronto non ad anticipare ma pronto a prendere un giocatore che probabilmente si muoverà anche per dare un miglior angolo di passaggio o come fanno gli slavi che su questa penetrazione gli vanno dietro il culo magari per fare un end off veloce va bene? ok quindi questo questo è quello che diciamo lì e cioè devono essere abituati ad accompagnare per poi consegnare aprendosi ma anche schiacciandosi la palla è in angolo la palla è in angolo ok io sono un attaccante fai una penetrazione al canestro stop torna indietro quali sono le competenze che ti ho dato io che sono il tuo allenatore tu che devi fare marchi sempre la palla stando tra palla e e canestro ogni volta che si avvicina uno in penetrazione tu che fai? chiudi la penetrazione se io prendo la palla vai se io prendo chiudilo prendo la palla e schiaccio e schiaccio non è un problema tuo ok? torna indietro quindi abbiamo detto che eh lì adesso su quello che avevo detto aprendosi sul perimetro oppure vai vai stringendo su un giocatore interno va bene? quindi deve essere estremamente chiaro mi permetto di dire mi permetto di dire che non è utile specializzare in età giovanile non ne parliamo neanche ma anche a livello superiore specializzare che faccio degli esempi che Ganeto sappia difendere solamente sulla linea difensiva sulla seconda linea difensiva e Traini sulla prima perché in una transizione difensiva dove decidiamo di difendere a zona comunque può succedere che Traini è stato il primo a recuperare dietro e che Ganeto stia marcando la palla perché era rimbalzo d'attacco e che quindi succeda che Ganeto sia sulla prima linea difensiva e Traini sia sulla seconda linea difensiva voi capite che se io non l'ho allenato Traini per capire cosa deve fare lì alla prima azione io prendo una schiacciata perché Traini su questo movimento di penetrazione che accompagna non va poi a schiacciarsi sul giocatore che è interno va bene? ok vediamo che altro ci abbiamo pic e roll molto interessante l'atteggiamento dovrà essere sempre quello di contenere il gioco a due forzando penetrazioni sul fondo sullo stesso lato l'abbiamo visto un po' prima palla qui palla qui viene a fare un pic e roll viene a fare un pic e roll stai qua centrale vieni su di là ok va bene ok pic e roll allora mentre questo stai tu sei in un atteggiamento come? frontale o laterale frontale perché abbiamo detto l'illaterale solamente all'inizio per dare una comunicazione a tutti quanti ok arriva arriva il blocco e il compagno dal lato debole o lungo chiunque altro chiama blocco 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 vai 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 blocco tu con guardando lui con visione periferica probabilmente stai vedendo che questo arriva o lo senti e cominci a modificare il tuo atteggiamento il tuo atteggiamento anche qui è quello di non concedere loro vogliono andare di là e noi li teniamo di qua lo faccio io scusami lo faccio io scusami lo teniamo qui su questo lato va bene lui prende un'iniziativa per non andare di là i compiti rimangono sempre gli stessi questo penetra lo accompagno non è roba tua perché se c'è un sovrannumero ci ammazzano starai dentro ok anzi forse andrai anche dall'altra parte o ti muovere dentro fermo lì e la mia competenza è quella di accompagnare lasciare ed andare a trovarmi il primo libero che non so dov'è indirettamente sto anche accompagnando questo taglio a questo compagno e a quel compagno pronto per prendere se la palla esce il primo giocatore nella mia area di competenza ok in un clinic di Sergio Scariolo mi ha aperto il mondo dove non mi ricordo l'argomento disse ai miei giocatori all'inizio anno gli do due alternative su una scelta tecnica per quale motivo perché se io gli dico a Nicolai arriva il blocco Andrea contiene sul fondo Andrea mi dice ma Fantozzi che era di là non me l'ha detto Rotelli che era in pivot non me l'ha detto io non l'ho sentito non me l'hanno detto non è colpa mia e io ho subito il blocco torna indietro blocca ho subito il blocco e mi sono schiantato no no caro Andrea perché ti ho dato la seconda alternativa la prima è quella che indirizzi se i tuoi compagni non hanno comunicato tu non hai sentito hai comunque una possibilità che è quella vai di rincorrere non schiantarti non concedergli l'arresto accompagnarlo e consegnarlo ed andare a trovare fa finta che sei in attacco fa finta che sei in attacco ed andare a trovare il primo che è libero che sta arrivando mi ha aperto il mondo perché così gli tolgo gli alibi di dare responsabilità a un altro compagno andatevi a vedere un video su Belasco dove parla degli alibi su YouTube è bellissimo bellissimo viene utilizzato da quasi tutti quelli che fanno qui abbiamo il professore il master Ticchi PNL di programmazione neurolinguistica viene usato in molti da molti relatori viene usato questo video perché? perché è veramente di dare la chiave di lettura come ad altissimo livello anche ad altissimo livello la cultura dell'abili è sempre presente e ti ammazza quindi rincorriamo il palleggiatore forzandolo sopra il blocco mai nessun giocatore del lato debole deve essere coinvolto nel prendere l'uomo con palla che esce dal pick and roll attenzione a meno che ci sia un pick and pop attacco difesa blocco ok indirizzo sul fondo facciamo finta che lui è bravo o noi non siamo stati talmente bravi a mantenerlo lì lui sfrutta il blocco tu vai nelle competenze bravo di seguirlo questo difensore non farà mai questo anche se quello si schianta non viene mai non si deve schiantare alleno la mia squadra per non schiantarlo ok il mio lavoro sarà torno indietro torno indietro che se la mia zona di competenza è questa perché Marco quell'attaccante è molto probabile che su questo sviluppo del pick and roll quel mio compagno si allarghi vai penetra e io dovrò aprirmi non stringere aprirmi perché la competenza della chiusura al canestro dell'e-up della schiacciata di tutto quello che avviene lì dentro è la sua non è la mia la mia competenza è che su questo scarico io non devo essere qui perché su questo scarico vieni qua se io sono qui potrei mettere in difficoltà lui che non capisce che quello adesso tira da libero e lo va a marcare e questo qui tira da libero è un casino ok quindi deve essere chiaro palla là che la prima cosa non glielo voglio far sprituppare il pick and roll la seconda cosa che se lo sviluppano se questa è la distanza e lui si allarga quello si deve allargare molto bene va bene quindi la prima linea non viene mai coinvolta attenzione torno indietro questo giocatore è Gersetti o Braulì grandi tiratori da tre punti due ottimi allenatori Gramenzi e Diana fanno sviluppare l'attacco a seconda con chiamata o a iniziativa del giocatore nella lettura per un pick and pop per un'apertura ok lo sappiamo prima e allora in questa situazione vai siccome Braulì o Gersetti si apre sui tre punti non possiamo lasciarlo libero e allora qui faremo un cambio e allora quel difensore sarà praticamente il quarto difensore che dovrà andare in rotazione intorno all'unico perno che non si muove mai che è il nostro 5 va bene quindi per assurdo quel difensore cambio qua vieni c'è il cambio no? abbiamo detto cambio ok vai sui tre punti vai a marcare Braulì o Gersetti vieni più centrale ok comincia a muoverti di là vieni a marcare questo vai passa passa ok stop siamo sempre due tre dove abbiamo modificato leggermente quello che era della seconda difensiva che è diventato nella prima questo che era sulla prima probabilmente andrà sulla seconda e quello che era su questo lato fa sempre la seconda ma è sull'altro lato è un adattamento ok va bene cominciamo a fare qualche cosa come esercizi così mettiamo un po' in pratica se il maestro delle luci ci dà le luci siamo a posto allora due sulla prima linea due sulla seconda linea chi è che difendeva in mezzo si toglie bene togliti ok va bene quattro attaccanti ok vieni vieni su questo angolo va bene stai lì non cambia niente stai lì stai lì va bene molto bene allora passiamo la palla stop chi è che prende la palla ok scusa un attimo torniamo indietro se tu vedi questo questa disposizione come pensi che potremmo vabbè prendi la palla prendi la palla prendi la palla ok tu come potresti adattarti meglio sul tuo compagno vedendo come siamo disposti in attacco ti ho messo un po' in difficoltà vero dai torna indietro mentre questi arrivano venite avanti i rossi i rossi i rossi venite avanti venite avanti venite avanti stiamo rientrando e vediamo come sono disposti tu come potresti aiutare i tuoi compagni sì eh secondo me devi stare all'altro lato va bene va bene rendiamola più facile vai in angolo di là vai in angolo di là facciamola più semplice ok allora la prima difensiva un compagno prende la palla messaggio chiaro per lui che devi bravo ok messaggio chiaro per te che se questo è bravo nel passare la palla lì il tuo compagno qui è in grande crisi quindi devi essere pronto per arrivare per far aiutare cuore palla qua ok passiamo la palla facciamo un passaggio aspettiamo mille uno mille due e poi la passiamo al compagno vicino va bene senza saltare i passaggi vai su ok bene piano sì bene vai sì sì molto bene aiuto e recupero molto bene va bene ok stop 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 torna indietro la palla è là la palla è là aiuto e recupero ok ok adesso la palla viene qua chi marca la palla chi marca questo è un tiratore bravo 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 fai attenzione perché adesso dobbiamo hai bisogno di fare aiuto e recupero perché questo non ce la fa eh palla lì ruotola vai sì aiuta e recupera molto bene una cosa sul recupero in angolo per me è vantaggiosa è un particolare che secondo me aiuta su un attacco efficace faccio io per te su un attacco efficace marca la palla ok bravo su un attacco efficace questo vai aiuto e recupero con un buon attacco io li rischio di prendere canestro faccio fatica ad arrivare là ok posso recuperare questo disagio in un modo che nel mio recupero invece di recuperare a chiudere l'area recupero sulla linea di passaggio più pericolosa perché se questo gioca in back door mettiti mettiti x5 stai fuori dal campo scusa sto facendo io per te ok grazie se questo mi gioca in back door passagliela abbiamo comunque il nostro i5 che ci aiuta torna indietro ma se io faccio aiuto e recupero e qua c'è l'angolo e la palla va in angolo rapida passa la palla lì fatelo velocemente fatelo velocemente vai sì sì io lì non arrivo mai allora questa può essere una chiave che vi aiuta di istruzione per la difesa palla lì l'aiuto e recupero io lo so che c'è un giocatore d'angolo lo devo sapere prima lui lo sa che lì non c'è nessuno quindi non ha bisogno di recuperare sull'angolo deve recuperare dentro quindi c'è differenza li devo allenare su questa cosa la palla va aiuto e recupero sulla linea in modo che se questo qui il passaggio non lo prendo quantomeno se lo prende non lo prende prendo il passo diretto lo prende scavalcando ok un po' più lento mi permette di volare con la palla ok nell'ipotesi invece che nella vettura dell'attaccante giochi in backdoor ho quel mezzo secondo per poter essere aiutato dal mio compagno e recuperare va bene ok ci siamo quindi adesso attenzione vediamo dove c'è l'angolo e l'aiuto lo facciamo sull'angolo sulla linea di passaggio dove non c'è l'angolo per recuperare il naro ci siamo vai bene stop chi marca la palla devi stare questo qui non lo manca questo tira ti ammazza tu non ti preoccupare sono problemi suoi tu comincia a marcare la palla ci siamo vai si marca la palla bravo stop aiuto aiuto su se questo palla lì questo sta correndo l'attacco è bravo e lo prendono contro tempo fa fatica questa a ritornare lì dai su vai si bene si vai di là si bravo piano stop chi marca la palla chi marca la palla ancora palla là palla là marca il posto stai in posto stai in posto difesa lì bravo ok vai si si bravo si aiuto il recupero ok va bene battuto a terra è più lento va bene si ok va bene stop 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 adesso cominciamo a far saltare i passaggi palla qua nella vostra didattica questo ha capito è stato istruito sull'aiuto e recupero perché c'è l'uomo in angolo ma lui no va in angolo abbastanza semplice sposto l'attaccante di là così istruisco anche lui oppure torna lì cambiatevi di posizione cambiatevi anche voi di posizione no 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 i difensori 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 va bene così tutto fanno tutti fanno tutto ok bene adesso potete fare i passaggi anche passaggi skip palla ok dove stai te la palla è qua dove stai te dentro 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 il pericolo non è non è il perimetro il pericolo è dentro stai più dentro dentro lì sul tiro libero bravo ok adesso se la palla va di là attenzione c'è un particolare ma qua siamo già a livello avanzato se questo attaccante è sopra la linea di tiro libero è sempre di competenza della prima linea difensiva palla là palla là se questo attaccante è sotto la linea di tiro libero passa la palla skip è sempre di competenza della seconda linea difensiva va bene devo allenarli devo allenarli su questa cosa ok bene siamo pronti quindi ci siamo facciamo attenzione sullo skip devo vedere prima che questi passano la palla lì passano la palla lì questo difensore è il direttore d'orchestra che vede tutto ha tutti quanti gli orchestrali nei suoi occhi sa come deve fare sa tutto di tutto e sa per lui e vede che fammi la cortesia non mi mettere in crisi questa lezione non mi stare sulla linea o stai nettamente sopra o stai nettamente sotto mi vuoi aiutare o mi vuoi far fare una figura barbina con i miei colleghi bravo va bene quindi tu lo sai che se lui sta lì sopra vai sullo skip e vola con la palla forza ci sei? ti è chiaro? se sta sopra il tiro libero roba tua torna là se la palla invece lui è sotto il tiro libero lo so vai volo con la palla magari con un passaggio con un po' più stamattina non hai fatto colazione? con un po' più di energia ok lo prenderete ci siamo? va bene quindi adesso fate passaggi regolari o passaggi skip vai su via sì bene sì molto bene bravi sì bravo sì ok va bene sì stop 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 tu sei Daniel sei stanco oh tu sei piantato qua con i chiodi dovunque la palla tu non ti muovi la palla è là vai 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 e tu stai qua perché qua non c'è nessuno se qui non c'è nessuno tu che fai siccome facciamo zona vogliamo proteggere l'area giusto ok stai qua la palla va là magari mezzo passo la palla va là magari mezzo passo e mi fai vedere che sei attivo magari quello si sposta sotto e magari ne fai un altro passo più qua perché se no non arrivi mai ci sei? eh? un po' più eh? mezzo passo però mi fai capire che ci sei che non stai qua che mi stai a fa un favore dai siamo pronti vai sì stop oh la stessa roba a ogni passaggio abbiamo detto all'inizio no? com'era passata palla qua marco la palla passa chi vuoi un passo dentro se la palla torna lì lo posso marcare palla lì se la palla schippa dove vuoi dove vuoi sì ci sono però cazzo mi devo muovere o no? avanti anche un passo forza su via molto bene stop palla là palla là grazie chi marchi tu? chi stai marcando? devi saperlo quanti ne marchi? due chi marchi? se la palla viene qua marchi lui ci sei? palla lì fermo là ok? palla lì se schippa la palla e è sopra al tiro libera ci sei? eh? qui devi essere pronto vai su via sì sì molto bene bravi va bene ok molto bene stop stop adesso sulla stessa idea sulla stessa idea gli attaccanti devono non possono devono penetrare al canestro se egidio non chiude la penetrazione tu vai a schiacciare terzo tempo quello che vuoi dire ok? se egidio chiude come probabilmente chiude devi andare a trovare un passaggio e poi ritorni alla tua posizione stessa roba per te qua penetro penetro ok passo la palla va bene se egidio non chiude vado fino al ferro tu egidio che devi fare? non devi permettere che questo vada al ferro è il tuo lavoro ok? a te è chiaro? a te è chiaro? ok ce lo ricordiamo le competenze che se io penetro tu chi marchi? ne marchi due ci sei? ok se io chi marchi te? quello ti ammazza non arrivi mai palla palla se questo penetra ce la fai arrivare là? ok bravo va bene e se lì non c'è l'angolo metti un po' sbasso se questo penetra c'è anche un angolo là mettiti in angolo quanti ne marchi? se la palla va là ci sei? ce la fai? palla ok se questo penetra coproteggerai prima dove? è molto probabile va bene rischiamo fuori ci sei? torna su va bene quindi ci apriamo e non stringiamo vai su si penetra bravo ok molto bene si bravo allarga benissimo bravi 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 si eccolo lì bravo molto bene stop 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 siete bravissimi molto bene corriamo un po' mettiamo un po' st'alto mi chiamano? Alessio Alessio scusa se non ti abbiamo coinvolto fino adesso eh perdonaci mettiti in post alto adesso sullo stesso principio Alessio tu puoi stare in post alto o in post basso sul lato forte o sul lato debole dove vuoi te va bene? quindi se la palla va su questo lato Egidio te che fai? te ne freghi di Alessio tu chi marchi? ne marchi due e come lo marchi quello? bravo non dietro tu chi marchi? eh ma ne marchi pure un altro questo ok? vieni più dentro vieni più dentro perché noi cosa vogliamo far vedere all'attacco? all'attacco vogliamo far vedere vai fuori e Gidio eh Alessio fai un tagliacanestro all'attacco non vogliamo far vedere questo torna indietro se tu stai dentro l'area tu sei Alessio se tu stai dentro l'area anche se Alessio taglia Fernando non gliela passa la palla ma favorisce questo passaggio che è quello che vogliamo lento lento e facilmente recuperabile torna se Andrea sta lì con un bravo una mano sul bravo sul post io favorisco questo passaggio torna indietro se Andrea sta con la mano sul post io favorisco questo passaggio va bene ok bene attenzione momento chiave palla se l'attacco per un motivo qualsiasi passa la palla a lui scusa Alessio Alessio ti sto per passare la palla dammi la palla ti sto per passare la palla l'attacco passa la l'attacco passa la palla ad Alessio ok voi due chi marcate la palla? no ok ci siamo? va bene siamo pronti? quindi sia che la prende qua sia che la prende in post alta uguale vai su molto bene bravi sì va bene volate con la palla sì ottimo allarga stop adesso mettiti lì di lato questo penetra chi marcavi te? dai questo penetra che devi fare? bravo bravo va bene? è roba di agitio eh? ci sei? siamo pronti? vai via su si stop lo marchi si no è importante che sai che lo marchi non devi venire a marchia fuori però è importante che ci sei va bene palla là dai via siamo pronti vai buona su si molto bene si penetriamo penetra si allarga stop ok torna lì torna lì torna lì torna lì palla in angolo palla in angolo palla in angolo attenzione chi marchi te? eh sì dai in una distanza e ti permette di arrivare va bene? ok faccio io per te ti dispiace scusa questo difensore è un momento di crisi perché se si mette qua passa la palla lì forse non fai un posto di blocco con Alessio che mi fa un posto di blocco non arrivo torna là torna lì la palla in angolo se mi metto qui e la palla va lì è un problema anche questo va bene? quindi devo stare vai in una posizione che mi permetta di Alessio io spingo tu spingi eh di lottare con Alessio ma non essere ingabbiato da Alessio va bene? ok questa posizione è una posizione vantaggiosa vantaggiosa se per contenere questo taglio questo rimbalzo d'attacco ma è svantaggiosa per difendere là questa posizione è svantaggiosa per difendere là allora devo stare sopra ok fai un passo fuori Alessio fai un passo fuori se Alessio fa un passo fuori posso stare anche qua va bene? perché riesco a avere un metro di più che anche su questo passaggio riesco ad arrivare ok? noi ce lo dobbiamo aver chiaro dentro la testa siamo pronti? 3 2 1 vai si penetra si ok stop adesso chi subisce la penetrazione fa una difesa un po' soft e se la fa subire va bene? così vediamo il giglio se chiude veramente ci siamo vai su penetra si chi lo prende lui sulla penetrazione? palla lo facciamo lo facciamo alla mogliola vieni qua vieni qua io penetro chi mi prende a me? accompagnami accompagnami chi mi prende a me? tu chi marchi? bravo 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 va bene? però dentro l'area non lì fuori ci sei? dai pronti vai si bene si ti lavora? si ok bravo bravo stop non marchi il post non marchi il post Alessio t'ammazza palalà dai fa la stessa cosa penetra faccio io sono Alessio Alessio faccia fa finta che siamo io e te siamo insieme siamo due un giocatore io e Alessio siamo insieme tu vieni a chiudere qua quello t'ammazza è appunto quindi devi star lì dai palalà vai si si bravo ok bene si allarga bravo molto bene molto bene ok stop Alessio puoi giocare qui e puoi giocare in post lato forte e lato debole dai muoviti così mettiamo in crisi la difesa vai su via su si bravo ora con la palla si allargati va bene ok va bene va bene va bene non facciamo cambiare difesa se no dobbiamo allenarlo ci mettiamo una vita molto bene adesso Alessio ogni tanto ti inventi un pick and roll su quello con la palla chi è in difesa e soprattutto chi è che vede il blocco quindi non quello che lo sta prendendo aiutiamo quello che sta prendendo il blocco nel comunicare blocco 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 vai vai in angolo vai in angolo su ok stop va bene ho spiegato male io scusa palla qua palla qua dai ho spiegato male allora quando no 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 quando arriva la palla se vedi che Alessio sta avvenendo aspetta mezzo secondo tu come difendi non c'è il blocco non c'è il blocco ok va bene te aspetti in modo che Alessio venga per fare questo blocco così vediamo lui che fa in difesa ok mezzo secondo aspetta Alessio di sprint verso il centro così vediamo che fa il lato debole ci sei attenzione che il blocco potrebbe venire anche che Alessio prende l'iniziativa per venire a bloccare qua va bene ok Alessio fai il blocco là ok tu che devi fare loro mi vogliono mandare là e noi non ce li mandiamo grande bravo vai su vai si bene volete con la palla si si bravo 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 molto bene su si sapete chi marco forza ok stop la difesa è fantastica perché gli attaccanti siete timidi nelle penetrazioni palla la palla è qua chi marca la palla chi marcava la palla ok vado vado devo provare devo vedere questo qui se mi accompagna Egidio se chiude se lui allarga ok ok avanti forza su 3 2 1 vai su su si bene apriti bravo ok va bene ancora dai forza molto bene bravi su si aprirsi con la palla si attacca bravo bravo ottimo molto bene si si bravo allargati palla là palla là palla qua palla qua dove sei te dentro perché se tu sei lì vai lì se tu sei lì questo passaggio quello lo vede va bene palla palla se tu sei lì e io la devo passare lì o devo passare un passaggio schifo ok bene questo penetra tu ti devi preoccupare di marcare chi tu ti devi preoccupare quello è il solo io no non c'è più lui ok va bene oh se tu vieni su sta penetrazione dentro noi prendiamo canestro a tre da lì ci sei allarga le penetrazioni chi è che le chiude e girio bravo vai su 3 2 1 vai si bene accompagnare all'aprire si bravi si stai lì bravo si vieni sulla palla dentro ok allarga stop eh mezzo secondo prima mezzo secondo prima questo qui lo marchi da qua vieni gli scoraggi il tiro questo accompagnalo adesso vai 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 ok avanti vai su si bene ok va bene bravo bravo stop 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 va bene bravo Alessio allora attenzione una cosa in più palla Alessio gioca in mezzo angolo ok per un motivo levati per un motivo qualsiasi per un motivo qualsiasi la palla finisce lì il nostro X5 non va mai quindi quello che sta qui che forse vieni qua vai che poteva essere lui sotto la linea sotto al tiro libero eh attacca scusa vai là vai là valla qua sta marcando sotto il tiro libero quindi è competenza sua la palla va lì in mezzo angolo non andiamo mai con Egidio Egidio è il nostro uomo sicurezza e va qui Egidio farà un piccolo passo in linea con la palla verrà questo qui a chiudere e ruotiamo con il lato debole ci siamo ok vai Alessio mi fai il favore ti avevo chiesto di fare picca e roll dai su fammi finire bene dai su via vai si si bene bravi ok via ancora dai gioca gioca buona 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 si va bene ok dai forza su 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 bravo bravo ok molto bene bravi benissimo 10 9 8 7 6 5 4 3 stop al 3 e al suo tiro ci siamo fermati facciamo un rewind al 3 dove stai dove stai vai dove stai fai quello che hai fatto 3 questo sta tirando momento chiave cosa facciamo devi fare a cazzotti con quello che ti spacca in due cosa devi fare Gidio al 3 che questo tira cancella tutte le regole che ha dato l'allenatore cosa puoi fare ti butti al rimbalzo e se quello ti ha preso un vantaggio tu non sei in condizione di andare lì che forse è meglio ma puoi guadagnare un po' di spazio cercando di spingerlo sotto il ferro perché qua prendiamo solamente la palla a noi lui non la prende va bene quindi siamo al 4 5 4 3 lascia lo tirare stop stop sei bravissimo adesso lascia lo tirare siamo al dammi la palla al 6 5 4 3 2 6 ok va bene va bene ok stop facciamo un applauso ai ragazzi dai bravi Andrea Diana mi perdonerà che gli ho rubato 10 minuti ma me ne prendo di quelli che hanno rubato l'organizzazione a me va bene ci avrei avuto da farvi vedere anche delle altre cose che sono un po' concare una solamente ve ne faccio vedere 4 in difesa 4 in difesa centrale fuori 4 in difesa centrale fuori vai in post basso lì ok vai in angolo vai in angolo no scusami rimani là rimani là rimani là fuori dal campo fuori dal campo ok adesso vai in palleggio chi c'è qua bravo stai frontale ok vai in palleggio laterale spostati in angolo seguo la palla sul palleggio no scusa torno indietro torno indietro uno solo levati levati un solo difensore ok va bene voi siete seconda linea difensiva 4 in difesa c'è il quarto dietro il quarto dietro ok no Egidio torna il campo scusa mi ho sbagliato io ho sbagliato io va bene ci abbiamo Egidio fuori 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 ci abbiamo Egidio e gli altri due uno sulla prima linea va bene ok ok vai stai qua stai più su stai marcando lui va bene passa scusa palleggia vai qui ben alto bene tu stai a metà sei a zona la palla va in angolo molto bene tu marchi la palla no un passo dentro un passo dentro la difesa ok adesso su questo passaggio levati scusa ho sbagliato io levati su questo passaggio l'allenatore qua uno due tre volate verso la palla tu Egidio c'è sempre la competenza della linea canestro tu sei in coppia con questo che è fantasma che sta prendendo la palla quindi tu dove vai? tu vai là con la palla che viene qua stai là giusto? ok passami a stai in ala oh stai in ala passami la palla ok qui c'è il tuo compagno più dentro adesso fai un passo verso la palla mentre lui fa un passo lo fai anche te e facciamo quel lavoro di prima sull'aiuto e recupero ok quindi succede che la palla va lì lui lo prende vai vai passa la palla aiuto e recupero aiuto e recupero ok lui recupera là va bene lo mettiamo dinamicamente con una cosa in più che tutte le situazioni dai di palleggio le seguiamo se non c'è un blocco le seguiamo ok marco la palla al passaggio al passaggio a ribaltare voliamo con la palla voliamo con la palla al passaggio riprendiamo le nostre competenze adesso lo facciamo veloce prendo il passo vai aiuto e recupero va bene ok anche se non c'è nessuno adesso in angolo recupero dove lo fai non c'è l'uomo in angolo recupero lo fai dentro l'area va bene ok ci siamo parla lì parla lì 3 2 1 vai sì bravo sì ok va bene ho anche una certa età non mi posso inchinare eh vai no 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 da capo falleggio da capo siamo pronti vai sì bene sì passa sì dai dai bravo ok sì aiuto e recupero vai passa stop sbagliato io prendo e passo adesso sulla prima ti sposti in palleggio quando poi te la passo la seconda volta fai passo prendo e passo va bene ok ci siamo sei là pronto palleggio vai via vai sì 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 bravo sì volare con la palla volare con la palla chi marchi te eh quello fa canestro bravo ok vai sì prendo e passo sì aiuto e recupero aiuto e recupero stop aiuto e recupero ci sei ti è chiaro eh ma se tu marchi qui la palla quando la palla questo la passa ti deve aiutare il compagno ti dà mezzo secondo un secondo per arrivare tu devi arrivare però lo facciamo bene dai l'ultima volta l'ultima volta vai sì vai sì sì bravo sì ok sì vai vai sì molto bene molto bene ok stop adesso stessa roba ho finito Andrea stessa roba dai uguale identico uguale palleggio sì palleggio sì passo la palla in angolo attenzione che taglio tu che fai taglio 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 accompagna accompagna taglio non lo porterai fino dentro va bene perché tu dovrai andare a prendere un giocatore che adesso arriva lì non lo sai ma lì arriva un giocatore quindi lo accompagno lo prenderò nella prima parte io nella seconda parte questo della seconda linea ci sei quindi lo accompagno mentre lui taglia te sei intelligente vieni su in palleggio portalo cambia 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 questo che taglia non gli passiamo la palla perché non c'è il lato debole ok non gliela passi la palla ma riesco sullo stesso lato che potrebbe essere un taglio che sta arrivando e tu devi essere attento su questo cambio nel capire il timing tra rientrare e essere pronto per andare a marca l'angolo ci sei quando la palla ritorna in angolo rifacciamo come prima skip a me passaggio passaggio aiuto a recupero va bene pronti vai 3 2 1 vai si taglia eh lo so ti ho detto 10 cose te ne sei dimenticata una quante cose ti ho detto passo la palla dai ci fai? ci la fai? dai vai su via si si molto bene bravi skip vola con la palla dai vola con la palla si passa passa aiuto a recupero si si ok va bene quindi abbiamo messo insieme un'altra cosa ultima ultima adesso sul passaggio che ritorna qua nella parte finale adesso viene a fare un piccherolle e abbiamo chiuso va bene vai su via su vai passo e taglio passo e taglio si passo e taglio 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 si cambio cambio si skip si vola con la palla si dai ribalta aiuto a recupero aiuto a recupero aiuto a recupero Ale aiuto a recupero devi sapere che blocchi però no? dai rifacciamo riavvolgiamo è l'ultima 30 secondi pronti vai si molto bene bravi palla in angolo taglio si cambio si va bene si skip ok dai passo aiuto a recupero si si vai bene stop se non ce la faccio perché l'attacco è stato più bravo ho l'alternativa palla qua Alessio ha fatto un grande blocco dai l'attaccante l'attaccante è stato molto bravo non riesco a contenerlo lo inseguo in modo che Gidio lo venga a prendere e io mi riallargo per marcare un altro sul perino dai l'ultima volta abbiamo finito dai 3 2 1 vai so si bene taglio si cambio si ok va bene skip si volo con la palla ci siamo aiuto il recupero vai si vai Alessio si va bene ok stop ti darei un cartone ti darei se mi passi dietro ci ammazzano sul tiro o no dai va bene ok stop bravi va bene ok domande domande l'applauso ai ragazzi bravi beh ce ne sarebbero anche altre di cose da fare ma ho già rubato abbastanza se ci avete qualche domanda se non come tutti quanti domande prego si si la facciamo perché se non capisco 4 rossi in difesa 4 bianchi in attacco uno qui con la palla uno lì centrale uno in angolo e uno in posto dai come prima su Alessio viene Dani com'è che sia Alessio Alessio dai su la palla è qua si lo marca questo la palla va a centrale questo va in mezzo non arriva mai non arriva mai chi aiuto e recupero aiuto e recupero eh oh questo è qua pala là pala là ok stai dentro si ok vai si mi comincia a muovere si si aiuto e recupero da lì a qua chiediamolo chiediamolo a Nicolai che ci ha accampato che ci ha fatto dei gran contratti anche a Roma quando è venuto al messaggero nel 90 Andrea domande molto bene grazie per la vostra attenzione in bocca al lupo buon lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti